Allora, io mi chiamo Paola De Ghani, insegno nella laurea magistrale Human Rights Multilevel Governance il corso di Women's Human Rights, mentre nella laurea triennale Scienze Politiche e Relazione Internazionale ai Diritti Umani il corso è Politiche Pubbliche e Diritti Umani. Quindi rispetto all'attività di ricerca che da sempre porto avanti anche nella relazione istituzionale con il Centro Diritti Umani ovviamente cerco di traslare le tematiche dei diritti umani della donna con un occhio ovviamente attento alla dimensione operativa. Devo dire che studiando i diritti umani il processo di moltiplicazione, specificazione e positivizzazione che li connota è stato fortemente aiutato dal contributo delle donne, del femminismo eccetera. Questo tipo di percorso ha aperto ovviamente a un orizzonte femminista molto importante per cui oggi il riconoscimento della tematica femminista dei diritti umani delle donne è entrato nell'operatività di molte realtà, in modo particolare dei centri antiviolenza con cui io collaboro segnatamente con il Centro Antiviolenza di Padova, ma insomma ma non solo anche con la rete nazionale Dire, con la rete internazionale Wave eccetera. Dopodiché io al di là del tema della violenza mi sono da sempre occupata delle forme di grave sfruttamento che coinvolgono le donne, non solo il fenomeno della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale ma molto più ampiamente appunto di tutte quelle tipologie di grave sfruttamento che magari sono molto meno visibili, molto meno narrate della dimensione sessuale ma che in realtà sono anche molto più affliggenti, la dignità, i diritti delle persone eccetera. Per cui rispetto a questo punto di vista dico che questi temi sono estremamente rilevanti, estremamente centrali per quanto riguarda il contributo in modo particolare e la collaborazione con il Centro Diritti Umani in questi tre anni abbiamo realizzato importantissimi risultati che sono culminati nell'accordo con il Centro Veneto Progetti Donna che è il Centro Antiviolenza della provincia di Padova di un protocollo di intesa abbiamo tra virgolette realizzato un accordo prima con il Comune di Venezia e poi con la Regione Veneto un accordo di collaborazione sulla gestione del numero verde nazionale antitratta del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per cui anche dal punto della formalizzazione l'impegno siglato è stato molto importante e su questi temi poi si sviluppano una serie di altri percorsi che in qualche modo sono coerenti proprio con questi due filoni principali diciamo che questi sono due filoni madre poiché in una chiave intersezionale permettono di sviluppare una serie di altre tematiche che sono poi le tematiche che soprattutto la Feminist Legal Theory sta portando avanti in questi anni proprio sotto il profilo dello sviluppo dei diritti umani delle donne ci tengo a sottolineare che in questo percorso l'aspetto più importante le azioni più significative sono rappresentate dalla Strategic Litigation per cui un grosso ruolo potenziale che le nostre studentesse in diritti umani possono avere è dato dalla collaborazione alla costruzione dei percorsi di Strategic Litigation e questo mi sembra davvero un valore aggiunto estremamente significativo in questo senso credo che lo sviluppo delle tematiche dei diritti umani delle donne ma lo sviluppo della prospettiva femminista all'interno del discorso dei diritti umani abbia portato davvero una grande apertura, una declinazione molto più situata, molto più controllata